Da più di un secolo sul territorio, macchini ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti e rivestimenti, parquet, ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Riosalso di Tavuglia. Macchini ceramiche, sempre al vostro servizio. Hai visto quante novità al Conade di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti, per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conade di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conade di Montecchio! Amici di Insieme a Canestro, buonasera e benvenuti alla 22esima puntata della nostra trasmissione, è giunta ormai alla quarta stagione. Siamo ormai agli sgoccioli della stagione, mancano poche puntate e questa sera abbiamo due ospiti che non fanno parte al momento del mondo VL. La società ha deciso di rimanere tranquilla, in silenzio, cercando di stare concentrata. Una loro scelta che rispettiamo, ma noi come sapete possiamo parlare di pallacanestro con tanti ospiti a Pesaro che ne sanno. Vi siete divertiti anche in queste occasioni e vi promettiamo che lo faremo anche questa sera. Intanto potete seguirci in diretta sul canale 80 di Rossini TV, visibile in tutta la regione, sulla nostra pagina Facebook, in streaming sulla nostra app che vi invitiamo a scaricare ed anche sul sito internet di Rossini TV. Grazie come sempre ai nostri sponsor che ci seguono ormai da tutta la stagione, Conad Montecchio e Macchini Ceramiche e passo a presentarvi i nostri ospiti. Il primo è un ex giocatore della VL, allenato anche nelle giovanili, ora cura il settore giovanile dei bis e benvenuto a Fernando Labella. Ciao, Betta. Buonasera. E l'altro ospite che abbiamo chiamato è un coach, Luigi Gigio Gresta. Lo chiamiamo con il suo soprannome perché a Pesaro tutti ti conoscono così. Benvenuto, Gigio. Grazie. Allora, intanto passo la parola a Giovanni Zidda che vi indicherà come mettervi in contatto con noi per porre le domande, anche rispondere al contest che lanceremo fra poco e che mette in palio due biglietti per la partita contro Pistoia, chi risponderà per primo. Vi ricordo che la partita con Pistoia si giocherà sabato 13 aprile. Vai Giovanni. Buonasera, buonasera Betta, buonasera agli ospiti in studio, buonasera a tutti i telespettatori come sempre. Volevo ricordarvi come sempre al numero WhatsApp 370-366-7210 oppure potete commentare nella diretta Facebook di Rossini TV. Il contest come sempre riguarda un ospite che abbiamo qui in studio oggi e vogliamo quindi sapere, Nando Labella è stato uno degli atleti bianco-rossi che ha avuto il privilegio di giocare una finale scudetto con la maglia della Scavolini. Vogliamo sapere in quale stagione, contro quale avversare e come è finita quella partita. Quindi chi vincerà avrà due biglietti per la partita del 13 aprile sabato contro Pistoia. Volevo ricordare che domani mattina alle ore 10 il coach Meo Sacchetti presenterà il match della 26esima giornata di massimo campionato Serie A che vedrà i bianco-rossi impegnati il 7 aprile domenica alle ore 12 a Sassari. Molto bene Giovanni, allora diamo intanto subito l'anteprima. Credo che già molti tifosi lo sappiano perché la notizia è uscita in rete, quindi la VL ha ingaggiato un nuovo americano, vuoi leggere le righe? Certamente, la Carpegna Pusto Basket Pesaro ha comunicato di aver trovato un accordo per portare in maglia bianco-rossa il giocatore Ludon Love. Nato ad aprile del 1998, un centro di 2,05 metri per 18 kg, ha giocato in NBA G League con i Texas Legend e ha concluso la stagione con gli Astol. La società è al lavoro per le pratiche burocratiche e speriamo di averlo qui presto a Pesaro. La società però comunica anche che Scott Bamford ha dovuto fare rientro negli Stati Uniti per un gravissimo motivo familiare e la società sicuramente augura a lui le migliori fortune per il suo proseguo di carriera. Ecco qua avete visto una schiacciata di Love, giocatore bianco, si chiama Love come il più famoso Kevin Love, però non sono parenti, è un ragazzo giovane, compirà proprio a Pesaro i suoi 26 anni, crediamo arriverà ormai dopo la trasferta di Sassari visto che deve fare il visto. Vediamo un po', poi cercheremo di parlarne con i nostri ospiti, ma sinceramente non è un giocatore molto conosciuto, è anche abbastanza giovane, non ha mai oltrepassato l'Oceano Atlantico e quindi è difficile avere altre informazioni su di lui con un comunicato stampa uscito praticamente due ore fa. Cercheremo poi di parlare anche di questo, ma adesso con i nostri ospiti vogliamo fare un passo indietro e occuparci della partita contro Treviso che purtroppo ha determinato una situazione per noi davvero complicata a questo punto per raggiungere la salvezza. Quindi, Fernando, coinvolgo prima te, dopo una partita comunque combattuta, la VL non ha avuto la forza di imporsi negli ultimi minuti, Sacchetti ha detto che questa volta però al contrario della partita con Reggio Emilia dove era molto arrabbiato, non ha nulla da ritroverare i suoi giocatori e che hanno deciso i dettagli. Vediamo intanto le immagini della partita del Palaverde. Sei d'accordo? È andata sui dettagli questa sconfitta? Sicuramente sì, soprattutto valutando la partita precedente con Reggio Emilia dove la squadra non è mai stata veramente in partita, non ha giocato come si poteva aspettare una squadra che ha bisogno di due punti salvezzi. Invece a Treviso è stata una partita con alti e bassi, però sicuramente la squadra è stata sempre lì. Gli ultimi minuti, gli ultimi possessi sono stati decisivi, non hanno comunque mai mollato, anche se purtroppo abbiamo incontrato in questo momento un'altra treviso che anche se è terz'ultima è abbastanza in forma. hanno cominciato in Granara, hanno fatto un paio di cambi che hanno migliorato la squadra e in questo momento sicuramente hanno qualcosa in più di noi, l'hanno dimostrato nei momenti finali, quando magari hanno più fiducia, è una squadra che fondamentalmente si presentava a Treviso abbastanza sfiduciata come la nostra. Senti, Gigio, Luigi, come vuoi che ti chiami? Gigio, Gigio, va benissimo. Va benissimo, ok. Allora, senti, molti allenatori amano parlare del collettivo, del valore della squadra, eccetera, però è indubbio che a volte avere dei giocatori che, come li chiamiamo noi ormai, go to guy, cioè il giocatore leader, il giocatore che nel momento caldo non ha paura di avere quella palla tra le mani, le squadre sono favorite ad avere giocatori così. E Treviso, con Caiboman e soprattutto D'Angelo Harrison, che sono abituati a giocare con i palloni, nel finale è andata con sicurezza su di loro e l'ha portata a casa. Pesaro ha tentato di andare su right fore, però abbiamo visto proprio l'ultimo pallone dove lui è partito in palleggio e poi ha perso la palla del comunque possibile potenziale pareggio, anche se in realtà stavano in entrata sotto di tre, quindi non lo so. Però comunque sì, a quella palla non abbiamo giocato perché è stata persa, per cui non sapremo mai come poteva finire. Ma in generale, secondo te, quanto conta avere questo tipo di giocatori in squadra e come si gestiscono? Diventa fondamentale, però ogni azione di gioco, dal primo minuto all'ultimo della gara, si cerca di costruirlo attraverso un sistema. Però spesso, per merito degli avversari, per merito della difesa o per demerito dell'attacco, il sistema non funziona ed è in quel momento, che sia il primo o l'ultimo minuto, che ti affidi al talento della tua stella, del tuo giocatore fondamentale. Quando si dice a schemi rotti qualcuno... A schemi rotti c'è il famoso pick and roll che lo deve fare il go to guy, parliamo solo in inglese, cioè c'è il blocco per la palla che lo deve fare la tua stella. Questo in tutto l'arco della partita. Poi ci sono momenti della partita, che sono gli ultimi cinque minuti, dove a prescindere dal sistema, a prescindere dalla volontà di costruire qualcosa, anche questa volontà si va a concentrare, a focalizzare comunque sui tuoi giocatori di punta, che possono essere o un gioco vicino al canestro, se hai qualche giocatore che se la può giocare vicino al canestro, o sempre situazioni di blocchi per la palla, però con il pallino in mano della stella della situazione. Poi può capitare che anche la stella deragli, io l'altro giorno, per curiosità, perché certe volte mi diverto anche a vedere partite della palla canestro passata, mi sono visto la palla persa da parte di Rivers dopo il tiro da quattro punti di Danilovic. e Rivers era una stella, eppure anche lui ha perso la palla, anche Michael Jordan perdeva qualche volta l'ultimo pallone, però l'importante è averli, quei tipi di giocatori, cioè la stella della situazione. La VL ce l'ha, purtroppo è andata male nell'ultima partita, ma le mani erano quelle giuste. A proposito di leader, quello che doveva esserlo, affrontiamo il tema Bamford, e poi con Fernando lo possiamo fare a maggior ragione, perché sappiamo che avendo allenato il primo genito di Scott, ha avuto un rapporto molto stretto con la famiglia. Innanzitutto facciamolo in bocca al lupo a Bamford, perché sappiamo che è partito con un grosso dispiacere nel cuore, perché c'è una situazione familiare di salute molto grave, di una persona per lui preziosa, importante, che l'ha cresciuto, e quindi sinceramente capiamo anche che non c'è da sentire di rimanere qui, mentre c'era questa situazione così, diciamo, delicata. Oggi però vorremmo toccare più che altro la questione tecnica, cioè doveva essere il nostro leader. In realtà, se uno guarda le cifre, può anche pensare che abbia fatto il suo dovere, perché ha chiuso quasi 14 punti di media, quasi col 42% da 3 punti. Uno se legge queste statistiche dice, vabbè, ha fatto il suo, però non è mai riuscito a essere quel leader che sognavamo in estate quando è stato annunciato il suo ingaggio. Ecco, secondo te cosa non ha funzionato? Allora, io penso che Bamford abbia fatto in una stagione due, diciamo, perché fino a dicembre, fino al suo infortunio, se andiamo a vedere, era stato fondamentalmente l'unico straniero positivo in questa squadra, perché veramente viaggiava più di 16 punti di media e stava andando molto bene. Dopo l'infortunio, oltre che è stato fuori un mese abbondante, non è riuscito più a ritornare. Nel frattempo sono cambiate molte dinamiche, cambiate l'allenatore, cambiate i compagni, così, però non è stato fondamentalmente quello che era prima. Diciamo che veramente la prima parte era stata molto, molto positiva. e a me dispiace tanto perché allenando il figlio ho conosciuto la famiglia, che è una famiglia fantastica, lui, professionista, era il primo a arrivare in palestra, l'ultimo a andare via, anzi, c'erano delle volte che gli consigliavano di far basta perché avevano paura di arrivarsi troppo stanco alle partite. Però sì, probabilmente ci si aspettava qualcosa in più, visto che in classifica siamo dove siamo. E quindi il giocatore con il suo passato, che si va a rilanciare a Pesaro, non ha dato quello che avremmo voluto tutti. Sai, già dalla prima partita, mi ricordo l'esordio a Brescia, ultima palla per vincere, tra l'altro una grande partita, aveva cominciato facendoci sperare, no? La VL. Una grande partita, ultima palla a Banford che sbaglia. Che può capitare. Ha fatto un tiro e era sbagliato. Giustamente, come diceva lui, era nelle mani giuste. Certo, chissà se magari mettere quel tiro e vincere subito la prima partita dell'esordio con il canestro decisivo dell'uomo che tu avevi chiamato per essere il tuo leader avrebbe cambiato un po', non lo so, le sorti emotive anche della squadra. Questo lo chiedo a tutti e due. Io penso che comunque anche quella partita, che ricordo molto bene, aveva dato una buona impressione la squadra. Dopo, anche molto presto, siamo andati anche a vincere a Milano, per cui si era iniziato non benissimo in casa. Era da decifrare quella squadra, però non era quella che dopo è calata nettamente negli ultimi mesi. Se andiamo a vedere anche ultimamente, come tutti i tifosi o seguono la Palacanessa, dico sempre adesso il nostro calendario è questo. Abbiamo queste fattibili e queste impossibili. Se andiamo a vedere il calendario della VL, quelle fattibili le abbiamo anche straperse e quelle impossibili, come Brescia e Bologna, in casa le abbiamo vinte, anche giocando molto bene. Purtroppo, vari cambiamenti, non abbiamo mai avuto un'identità difensiva, che è questo che io all'inizio mi aspettavo da Buscaglia, ricordando la sua Trento soprattutto. Quindi, niente, io adesso spero che quelli che sono rimasti intanto domenica credano che ancora c'è la possibilità, perché un giocatore non può mai, mai, mai mollare. Coach, come inquadri la stagione e anche soprattutto la presenza di Bamford, che aveva un pedigree, una carriera che parlava per lui, però forse limiti fisici, non era più il giocatore esplosivo. Lui ha rotto i crociati, ricordiamo, nel suo secondo anno a Sassari, probabilmente la sua carriera lì ha avuto un po' un calo rispetto agli inizi, perché non è un giocatore esplosivo, quindi basava molto sulla tecnica, anche le sue capacità. Ma, secondo me, le vittorie rendono più facili le strisce vincenti, come sconfitte, come è capitato all'inizio, magari anche immeritate, possono portare a momenti di crisi, a partite negative che si possono inannellare. È più facile, cioè, è come in economia, chi ha i soldi è più facile che ne guadagni di più. Ecco, qui uguale, l'entusiasmo, la positività, ti porta a prolungare dei momenti positivi, come ovviamente il contrario. Probabilmente, tornando alla domanda tua iniziale, se quel tiro fosse finito dentro, se quella palla fosse finita dentro, poteva anche cambiare la stagione, perché era una VL che stava giocando bene. Dopo è arrivata la vittoria di Milano, però sì. Cioè, era come dire, ok, sono venuto qua a fare quello che mi avete chiesto. Sono il leader e il canestro l'ho messo dentro. Poi dopo c'è stata la contestazione un po' del coach, a mio parere, che ha crinato anche un pochino l'ambiente e anche la fiducia del coach stesso. Quindi il cambio del coach è stata come una valanga, ma una valanga negativa, ecco, che ha portato a momenti di difficoltà. Senti, adesso per rimediare, diciamo, sul mercato, la VL, questa è una curiosità perché, insomma, questo giocatore ci aveva un po' fatto ingolosire, ma non tanto in chiave salvezza, che magari forse non sarebbe bastato. Però, insomma, il nome di Johnny Hamilton aveva un po' scaldato la fantasia di chi magari questo giocatore lo conosceva. Eccolo qua in schiacciata, purtroppo stiamo parlando di un giocatore che non verrà e quindi voi dite perché ci fate perdere tempo. Però anche per chiedere, a volte le cose non vanno bene proprio nelle annate storte, vanno male anche le cose che sembrano ormai definite. Quindi martedì la società invia il contratto al giocatore che ha richiesto una cifra, è stato accontentato, si stende il contratto e quando si stende il contratto tu mi insegni che vuol dire che dall'altra parte hai accettato, cioè non è che stiamo ancora in trattativa. Chiamata l'ambasciata italiana a Istanbul per fare il visto, quindi con il tentativo di portarlo a Sassari, il giocatore sparisce. Non si fa più vivo, non firma, il giorno dopo dice che vuole ancora 24 ore. Quante volte ti sono capitate queste cose? Ma succedono, succedono, ma non solo con gli stranieri. A me è successo, potrei dire, il rinnovo di Blizzard. Potrei dire, tanti anni fa un certo Sunday a Debaio, ero vice allenatore, sono andato io in aeroporto a non prenderlo. Perché non c'era? No, non c'era, non c'era. Ogni ragazzo di colore che passava, che aveva una certa statura, diceva se tu Sunday, magari sono Monday, però non ha preso l'aereo. Erano anche altri tempi, stiamo parlando questo degli anni 90. Però succede e fino a quando non c'è la firma, lo sanno tutti e lo sanno ovviamente anche i dirigenti dell'AVL, che non si può fare il comunicato. Ovviamente il comunicato non è stato fatto perché non c'è la certezza. Ma certe volte ho fatto parte anche del motivo per cui qualcun altro non è riuscito a prendere un giocatore. Perché all'ultimo la mia squadra è intervenuta per prendere quel giocatore come è successo al contrario nei miei confronti. Quindi può essere stato un disturbo magari di un altro club. Un disturbo, mi viene in mente il compianto Brent Darby, aveva praticamente quasi firmato a Ferrara, siamo intervenuti con Avellino, 10.000 euro in più, 10.000 dollari in più e il contratto non l'ha rimandato indietro. Sono cose che possono succedere. Il caso più recente è quello di Caboclo alla Reier, stavano già aspettando, pre-contrato firmato, è andato a giocare. E secondo voi l'AVL, visto che comunque per Sassari questo giocatore, come dicevamo, giocando in Europa, era stata una scelta intelligente andarlo a prendere in Turchia in modo che non doveva tornare in America a fare il visto, lo poteva fare all'ambasciata di Istanbul e venire direttamente a Pesaro, essere tesserato magari all'ultimo secondo, ma c'era una buona speranza di farcela, e portarlo a Sassari. E invece così il giocatore che arriva dall'America, è ovvio che avendo firmato oggi, domani scadono i termini alle 11, quindi non può giocare a Sassari, anzi non aveva ancora il visto neanche in mano, quindi arriverà dopo il weekend a questo punto. Secondo voi ha senso, visto che poi mancheranno solo quattro partite, prendere comunque un nuovo americano, oppure una mossa inutile, Fernando? Io penso che sia una mossa perché nessuno vuole mollare fino all'ultimo questa possibilità di rimanere in Serie A. Sicuramente, come dicevi prima, hanno cercato di firmare Hamilton per riuscire a tesserarlo entro domani mattina, e averlo per tutte e cinque le partite, si vede che comunque sia adesso con l'arrivo di Love, che ovviamente io non conosco, quindi non posso dare giudizi, e dopo la partita di Sassari comunque ci si prova fino in fondo a rimanere aggrappati a questa 1, che tutti vogliamo, è inutile che ne parliamo, la gente dice no è meglio se andiamo in A2, non è così. Queste cose si dicono quando ormai non c'è più esperienza. Esatto, io non sono d'accordo, perché molti lo dicono ma non lo pensano veramente, perché fondamentalmente andare al palazzetto e vedere 8.000 persone, 10.000 persone ad agosto, incontro a Milano, incontro a Virtus Bologna, con tutto rispetto per altre squadre, non è lo stesso affrontare orsi nuovi, la gente non vuole quello, vogliamo una società sana, squadra fortissima, quello lo vorremmo tutti, ma purtroppo ricordiamoci che Scavolini non c'è più in questo momento, però questo è, anche se chiamiamo in ritardo, questo giocatore è un fatto che la società non vuole ammollare fino alla fine. Secondo te è giusto comunque anche per rispetto per se stessi non andare senza pivot a giocare quattro partite? Ma assolutamente giusto cercare di lottare fino a quando la matematica non dice, sono scontato in questo, però fino a quando la matematica non condanna. In particolare ci sono ancora possibilità vere di poter fare un miracolo, di poter fare un'impresa, perché il termine miracolo non è che mi piaccia tantissimo. In passato abbiamo visto salvezze con situazioni di classifica simili, arrivassero una vittoria nella partita di Sassari, insomma rimette tanto in gioco e di conseguenza è giusto attrezzarsi il meglio possibile, anche se si va a giocare a Sassari, però a Sassari si va a giocare contro una squadra che è affrontabilissima, e anche se la VL non ha mai vinta a Sassari, io penso che ci sia una legge statistica che è quella dei grandi numeri e prima o poi che è il contrario della superstizione, cioè non si è mai vinto, allora prima o poi si vincerà e può essere la volta buona. E' clamoroso sarebbe vincere proprio stavolta con una squadra meno mata, chissà. Giovanni abbiamo già delle domande per noi? Sì, iniziamo subito con Betta, ci chiedono direttamente, Daniele ci chiede, credi nella salvezza o secondo te siamo in un periodo di crisi? Ma credo nella salvezza, io non ho giocato come Fernando, non ho allenato come Gisio, però ho visto tante stagioni, tantissime, da quando giocavi tu e anche prima, per cui le sorprese possono capitare nello sport, la palacanestro è uno sport con un grado di poter sorprendere l'avversario molto alto, forse più alto che in altri sport, per cui non è mai detta. Certo, la situazione classifica si è fatta molto, molto brutta, aver vinto a Treviso avrebbe cambiato tutto, perché chiaramente saresti tornato a meno due da Treviso con un 2-0 a favore, e adesso invece sei a meno sei e hai salvato la differenza canestre, l'unica speranza è nell'arrivo in un mucchio, Pesaro ha la differenza a favore sia con Brindisi che con Treviso, però ha uno 0-2 con Varese, ha perso di 27 a Cremona, e questo è gravissimo secondo me, perché anche in casa vincendo sarà difficile vincere di 30 punti, quindi anche quel confronto lì sarebbe stato importante invece averlo a favore, per cui siamo veramente appesi a un filo, però si dice non è finita finché non è finita, e quindi la mia risposta è questa. Secondo Cristian non sposterà gli equilibri questo nuovo acquisto, però ricordiamo che comunque è un insieme di 8.1 di punti di media, 4.4 di rimbalzo, due recuperi in 19 minuti di media partita. Gigio, una domanda, in quale squadra ti sei trovato meglio ad allenare in tutta la tua carriera? Mi viene da dire Cremona? Se devo dirne una, Cremona, se ne posso aggiungere un'altra, Avellino, perché sono due realtà che mi hanno dato tantissimo, anche da un punto di vista umano mi hanno dato tanto. Ovviamente, adesso sempre le cito tutte, però quella che invece mi ha dato più successi è stata Iesi, però Iesi, come dire, la vivevo di meno perché facevo avanti e indietro e di conseguenza vivevo a casa mia e quindi vivevo meno la città. Non eri immerso, diciamo, nell'ambiente. Invece Avellino e Cremona c'ero in mezzo, proprio come le fragole della Macedonia, insomma. Ecco, così, quindi... Stai, sei stato bene. Altro, Giovanni? Vai pure. No, scusami, un altro. Sì. Stefano Gentile ha lasciato Sassari. Cosa ne pensate, Fernando e Gigio? Vabbè, intanto, questo forse la betta non sapeva, io ho giocato insieme a Stefano. Ah, non ricordavo. Dove? Sì, in B1 a Ostuni. Lui era 17enne, faceva il mio cambio, diciamo, per me, che c'era un allenatore che non credeva in lui come guardia, invece forse si sbagliava. e sicuramente adesso ultimamente lui aveva meno spazio e ha trovato una soluzione importante, probabilmente io non ho seguito la trattativa, penso che abbia firmato un contratto... Principesco. Sì, oltre a quello economico, ma anche di lunga durata, con una realtà che sembra che sia per esplodere, però anche loro comunque devono giocare le partite per giocarsi la Serie A. Come giudichi la scelta di Gentile? Ha fatto bene? Si è allungato la carriera così, forse? Lui ha fatto grandi dichiarazioni dicendo che è stata una scelta del cuore. Io ci credo poco che è stata una scelta del cuore. Una scelta del cuore, trapani? Sì, secondo me ha fatto un bel contratto, giustamente dice, mi hanno offerto tanti soldi, ci vado. Cioè, quelle dichiarazioni ipocrite un pochino mi danno fastidio. Ma anche perché sei anni a Sassari, la scelta del cuore, casomai, sarebbe stata rimanere, no? Esatto. Però ho letto sui social questa cosa qua, che è stata la scelta del cuore. Io credo più alle scelte di cuore che hanno fatto in passato capitani storici di Sassari, De Vecchi e... Vanuzzo. Vanuzzo. Un altro mio compagno di squadra. Sì, esatto. Quanti cattini, sì, tanti. Ma sai, devo dire la verità, io un po' lo capisco anche, no? Uno guarda la sua carriera e dice, quanti anni ho? Quanto spazio mi sta dando Sassari? Forse il mio ciclo qui è finito. Una nuova squadra che magari ha voglia di tornare in a uno mi cerca, posso esserla più protagonista, vado. Cioè, non la vedrei solo come una scelta economica, ma anche proprio di maggior coinvolgimento tecnico, no? Di sentirsi di nuovo importante, mentre forse a Sassari la sua importanza stava un po' scemando con il nuovo allenatore. Dopo che è andato via Piero Bucchi, probabilmente non era visto con la stessa considerazione magari dal nuovo coach. Ma forse è stata anche una scelta economica. Nessuna niente da dire. È un lavoro, no? Cioè, alla fine gioca a pallacanestro anche per guadagnare dei soldi. Assolutamente. Allora, chiedo ad Andrea di mettere la foto della classifica. Vabbè, lo sappiamo che sono penultimi, non è che vogliamo infierire, ma è solo per dire, domenica c'è lo scontro diretto, Brindisi ospita Treviso. Cos'è meglio augurarsi in chiave pesarese, ragazzi? Che vinca Brindisi, così da tenere Treviso ancora lì, o che vinca Treviso per non rimanere ultimi da soli? Tutta la vita che vinca Brindisi. Anche, sono d'accordissimo. Non è che possiamo sperare negli altri. Intanto, noi dobbiamo provare a vincere. Questo, partita dopo partita. La vittoria di Treviso sarebbe una botta quasi definitiva, diciamo, visto 0-2 con Varese, almeno tanto con Cremona. E sperare in un eventuale ripescaggio vuol dire quasi arrendersi, a mio avviso. Però comunque arrivare ai penultimi è importante, non si sa mai, no? Sì, sì, però... Se una società fallisce o ha dei problemi o ha dei debiti o non lo so, se tu arrivi ultimo ti autoescludi. Al di là del calendario, io penso che a cinque giornate dalla fine devi far di tutto per provare ad arrivare a terzo-ultimo. Certo, sì. Assolutamente. Dopo, se arrivi il penultimo e c'è un eventuale ripescaggio, però io ne... È un pensiero successivo. Un pensiero successivo, sì. Sicuramente alla fine della regola, sì, sono ovviamente. Non vedo società traballanti, però... No, quest'anno non sembra. Non mi sembra che ci sia qualcuno che rischi di non iscriversi. Poi dopo le sorprese vengono sempre fuori... Beh, sai, a un certo punto quando Logan ha detto che andava via da Scafati si era sparsa la voce che fosse per motivi economici, invece poi questa cosa è stata smentita dal presidente e quindi probabilmente Scafati... A Scafati va tutto bene, per cui non... No, perché sai, si guarda sempre con sospetto certe società, invece guarda anche Napoli quest'anno, no? Io ci ho allenato a Scafati. Non ho mai avuto un ritardo di un secondo in quelli che erano gli impegni societari. Poi c'è un presidente focoso, però... Anche tanto appassionato, però. Appassionato e aggiungo anche competente, perché con Nello si fa fatica a parlare e a convincerlo perché ne capisce di parlare a canestro. Poi dopo è uno sanguigno, però io non ho mai avuto nemmeno un secondo di ritardo negli stipendi, assolutamente. Torniamo un attimo, Andrea, al grafico delle prossime giornate, perché comunque se guardiamo la prima colonna, quella di Treviso, quella in verde, Treviso dopo essere andato a Brindisi avrà in casa Milano, in trasferta Venezia e Varese e l'ultima giornata in casa Tortona. Non è proprio un calendario facilissimo quello di Treviso, sinceramente. Quindi non è detta che vinca ancora tante partite. È per questo che la partita di Brindisi è importante, è importante per la VL ed è per questo che è giusto che la VL provi a far di tutto per arricchire il roster e per cercare di lottare perché comunque le possibilità per potercela fare, anche se remote ci sono. Il calendario di Treviso è il più difficile fra tutte le squadre, fra tutte le squadre che lottano per rimanere in Serie A. Molti dicono, io raccolgo un po' anche le voci, ma perché spendete i soldi per un altro giocatore? Teneteli per il prossimo anno. Ma onestamente, quanto mai potrà costare un giocatore per un mese? Cioè non è con quello che si costruisce la stagione ventura, no Fernando? No, assolutamente. È giusto che la società provi fino in fondo. Se questo vuol dire spendere qualcosina in più, probabilmente anche essere fuori budget, bisogna farlo, assolutamente. Una società storica, come la nostra, deve fare di tutto per rimanere ad alti livelli. Assolutamente, io sono d'accordo cercare di prendere un giocatore. Spero che questo, tra i loro reti sconosciuto, ci faccia vincere qualche partita che ci permetta di rimanere, perché non è possibile dirci, lo meritiamo, però è tutto il nostro pensiero, il nostro volere, è quello di vedere sempre le volle ad alti livelli, quindi in A1. Senti Gisio, poi tu tra l'altro segui parecchio i campionati esteri, anche la G League, mi dicevi, però questo ragazzo non lo conosci, non l'hai mai visto comunque, è abbastanza sconosciuto. No, non l'ho visto, non lo, come dire, non mi sono concentrato su di lui, anche perché non avendo una squadra, non è che mi concentravo, non è che mi sono concentrato su nessun giocatore della G League, però questo non vuol dire che magari possa arrivare alla sorpresa della situazione. in passato sono accadute situazioni dove perfetti sconosciuti sono arrivati e hanno fatto la differenza nel nostro campionato. Mi viene in mente un giocatore che io ho avuto, Mason Rocca, nessuno sapeva chi fosse, nessuno, sì, l'avevano visto qualcuno da Samerlini Treviso, però poi ha fatto quello che ha fatto in Italia, ma come lui ce ne sono tanti altri, quindi se l'AVL lo ha scelto, evidentemente c'è qualcuno nell'AVL che lo conosce meglio di me, meglio di Nando e meglio di tante persone. Io non lo conosco e quindi non mi permetto di esprimere un giudizio su di lui. Sarà difficile che riesca a fare la differenza da subito, però sicuramente bisogna anche vedere quelli che sono i tempi di recupero di Totè. Allora, dalle notizie che ho io, forse potrebbe rientrare con Cremona che se fossimo ancora in ballo non sarebbe male perché quella è una partita cruciale essendo una delle ultime due rimaste in casa. Vediamo. E poi bisogna vedere anche, non conoscendolo, non so se posso giocare insieme, può entrare nella rotazione di altri ruoli dell'ala piccola, dell'ala forte. Onestamente, la G League che razza di campionato è? Cioè, è competitivo seriamente oppure molti dicono non si difende per cui anche le cifre non sono proprio veritiere perché se uno fa 20 punti in una lega in cui non difende nessuno non so, che ne pensi? Guarda, la G League è andata peggiorando nel senso un tempo si chiamava NBDL poi diventata D League poi diventata G League ma per una questione di sponsor. Però, questi passaggi di nome hanno anche come dire, stabilito delle fasi storiche di quel campionato. Inizialmente l'NBDL dall'NBDL sono arrivati i giocatori come Terrell McIntyre per me un giocatore conosciuto a peso ma che io ho avuto ad Avellino Ramekwari Jamal Robinson giocatori cioè ma potrei fare una lista Alvin Young potrei fare una lista lunghissima di campioni di ottimi giocatori però un po' perché sono cambiati i ragazzi dove vado a vedere vanno a vedere i numeri vanno a vedere le statistiche un po' perché il modo di giocare loro ha portato a guardare molto le statistiche secondo me i numeri della G-Liga attuale non possono essere letti come un tempo si leggeva l'NBDL questo per dire le caratteristiche che si riescono a leggere in un giocatore che gioca in G-Liga adesso devono essere sempre aiutate da un giudizio sullo stesso giocatore che si può avere o in campionati europei se sono già venuti o dal college non vedi assolutamente se un giocatore è un grande difensore in G-Liga quello che dicono che non si difende è vero però se uno fa canestro da fuori lo fa a prescindere la valutazione la valutazione sulla G-Liga deve essere sempre aiutata da un'altra valutazione che deriva da altri campionati dove invece la difesa c'è ed è importante certo il fatto che non abbia mai giocato in Europa non lo aiuterà però non è nemmeno il primo caso di americano che arriva senza un'esperienza europea e ci sono stati anche dei casi di debuti subito forti per cui glielo auguriamo adesso però intanto c'è una partita da giocare quindi Giovanni se altri interventi per l'errore no allora io vorrei coinvolgere un attimo Fernando sulla questione delle giovanili perché all'Eni BIS che sono il serbatoio principale della VL che ha scelto di cedervi anche gli under 14 dopo l'under 13 quindi si dice che potrebbe farlo anche con gli under 15 prossimo anno non si sta un po' smantellando troppo il vivaio e comunque come vedi diciamo questo argomento che è molto importante soprattutto se dovessimo trovarci in serie A2 dove servono 8 italiani allora questo non credo che si stia smantellando sicuramente la società per una questione solo di gestione ha deciso di fare in questo modo il lavoro tecnico e di collaborazione è continuo in questo momento diciamo nell'under 14 i BIS fanno under 14 elite cambia solo il nome sulla maglia e la collaborazione esiste ancora c'è tanto colloqui con Mattia Costa con Luminati c'è sempre questo anello di congiunzione credo che sia solo una questione potrei dirla così economica diciamo che essendo un'unica società della serie A in giù si cerca di avere tutte le risorse per la serie A e cercare di sì ovviamente non mollare mai assolutamente il settore giovanile però cercare di fare diciamo il minimo indispensabile però mi hai detto che in A2 in A2 dovrebbero essere più squadre non per forza di eccellenza adesso comunque noi abbiamo una base importante numerica diciamo cerchiamo di lavorare bene lo stiamo facendo però giustamente come tutti possiamo fare degli errori ma cerchiamo sempre di confrontarci e di migliorarci e la VL è ancora una forsteria però secondo me è troppo poco comunque perché dovremmo aggiungere sempre anche altri ragazzi più ragazzi per migliorare le nostre squadre per riuscire a creare dei gruppi che aiutino un giocatore che possa crescere casomai arrivare anche in serie A non è semplice arrivare giocatori più forte che hai allenato che è diventato comunque bravino diciamo non lo so adesso diciamo che di quelli che sono più su in questo momento posso dire Nicola Alessandrini che è in A2 e gioca tanto e a altri nuovi sta facendo molto bene è in crescita negli ultimi anni da quando era Cesena in B è sempre un miglioramento un giocatore che è un ragazzo che in caso adesso vabbè parliamo senza scaramanzia perché dobbiamo anche guardare in faccia la realtà se Pesaro dovesse ripartire dal piano di sotto un ragazzo come questo sarebbe anche da riportare a casa ah sì lui lui è in A2 Sarpilli in A2 sono giocatori che hanno fatto le giovanili poi tra l'altro anche Alessandrini è nato nei bis tra l'altro ha fatto le due trafile diciamo i giocatori in A2 che sono pesaresi di adozione o pesaresi che sono cresciuti da noi ci sarebbero però io adesso spero nella 1 e che tornino anche perché continuano a crescere a migliorare sia tecnicamente che fisicamente per poter fare il campionato di A1 ti coinvolgo al volo perché la tua origine è argentina che comunque anno dopo anno stai perdendo è un po' questo accento sì non me ne accordo sono solo 35 anni senti Fernando Maretto un ragazzo che ha tanta fame che ha tanta voglia che ha un bel fisico che le occasioni che gli hanno dato le ha sfruttate poi dopo è tornato in panchina come ti sembra? Penso che lo sia già però lo diventerà un giocatore molto importante perché ha cose fondamentali per giocare ha talento ha il fisico ha carattere e quindi quando ha avuto l'opportunità ha dimostrato che può stare su questi palcoscenici ha giocato una partita positiva addirittura con Milano marcando gente come Napier penso che avrà un futuro ha molta umiltà io prima di venire in Italia giocavo con suo padre che è venuto anche qualche mese fa a trovarlo molto contento della sua esperienza qui sta facendo un percorso quando è riuscito a giocare era molto contento adesso che guarda le partite della panchina lo è tuttora perché sa che il suo momento arriverà che sta crescendo lo stanno seguendo molto ancora le giovanili dove prima assolutamente sì sì Andericianove continua a farla e addietro delle persone lo diciamo di nuovo alle finali nazionali per cui è sempre un bel traguardo assolutamente io penso che questo è un giocatore che vedremo ad alto livello hai dato un'occhiata a cosa sta facendo Stazionelli in Serie B? devo dire la verità le prime partite sì adesso ultimamente un po' di meno però stava giocando e anche bene dopo direi una bugia se dicesse come stia andando ora ok senti Gigio tu pur essendo pesarese non hai mai avuto la soddisfazione di allenare la VL so che ti sarebbe piaciuto e a chi non sarebbe piaciuto certo hai allenato le giovanili che rapporto hai con la società e diciamo dopo le tue ultime esperienze negative certamente non per colpa tua visto che ci sono state delle società che sono fallite e questo succede nel basket quindi ha maggior ragione a Pesaro dobbiamo dire a volte con tutti gli errori che sono stati fatti bravi perché comunque in questa cosa non siamo più caduti dopo il fallimento di Amadio che comunque veniva da fuori ecco una panchina la vorresti ancora oppure col basket hai chiuso perché mi hai detto anche che hai iniziato un nuovo lavoro proprio da pochi giorni sì con piacere ho superato una selezione concorsuale nel comune di Pesaro quindi io a Pesaro volevo volevo lavorare prima il mio mestiere era quello di fare l'allenatore e quindi volevo lavorare sperando e sognando di finire prima o poi nella VL nella VL non sono mai stato chiamato magari anche a ragione non so però anche quando magari avevo il borsino che poteva avvicinarmi o nemmeno nel ruolo di vice allenatore nulla e questo mi dispiace tanto però io Pesaro volevo vivere volevo abitarci ci ho comprato una casa è la mia città e quando ho scoperto che c'era un concorso l'ho dato un mesetto fa per fortuna l'ho vinto ed adesso lavoro a Pesaro ma nel comune di Pesaro sono nell'ufficio economico e quindi adesso è tre giorni che lavoro quindi per adesso sono solo lì a imparare grazie ai miei colleghi che mi stanno insegnando tante cose però c'è un bel ambiente e finalmente vivo a Pesaro finalmente vivo la città e finalmente sono dove avrei voluto essere da sempre ecco perché tu sei stato tanto tempo a Fossombrone quindi io tuttora abito a Fossombrone c'è tanta gente che pensa che tu sia di Fossombrone invece lo sfatiamo questo mito mio babbo si arrabbia molto quando dicono il coach forsempronese ma si arrabbia veramente dove sei nato dove io sono nato il tuo quartiere io sono andato all'ospedale San Salvatore e sono cresciuto in corso 11 settembre quindi il proprio centro storico pieno io andavo con il retacchio nella fontana della piazza a tirare su le monetine quando avevo 8-9 anni in bicicletta quindi più pesarese di me non c'è nessuno una volta cercavano il vice allenatore ma tanti anni fa io ero vice allenatore ancora all'epoca e hanno detto no vogliamo un pesarese doc mi ricordo che un po' rimasi offeso perché perché mi sento pesarese doc perché ci sono nato ho vissuto e ancora i miei genitori abitano qui certo bene allora adesso io vorrei da Giovanni che mi svelasse il contest ma per un solo motivo perché siccome abbiamo un album dei ricordi che è collegato al contest non possiamo metterli in onda invece io con Fernando adesso un po' mi vorrei divertire quindi prima risolviamo vediamo subito il contest tante le risposte il primo che ha risposto è Roberto che si aggiudica a due biglietti la stagione era quella del 93-94 la serie finale con Bologna che terminò 3-2 per la Virtus ecco allora a proposito di finale scudetto con la Virtus grazie a Claudio Iacchini e al suo canale WL Pesaro History che vi consiglio di frequentare perché dentro si trovano delle chicche andiamo a raccontare questa storia perché Fernando c'era se ne parla sempre troppo poco rispetto alla famigerata monetina dell'89 ma durante la finale scudetto del 93-94 che giocò anche il nostro Fernando Labella fu compiuta un'ingiustizia forse ancora più grossa a seguito della rissa fra McLeod e Col de Bella scoppiata nell'intervallo di gara 2 nei corridoi del vecchio Palace Col de Bella provocò l'americano che abboccò e lo stese con un pugno mandandolo all'ospedale non venne data partita persa come accade con il caso Meneghin ma il giudice Martone il cui nome non possiamo dimenticare squalificò George McLeod per tre giornate Claudio Col de Bella solo per due col risultato che la serie per il giocatore della Scavolini terminò quella sera mentre per i play di Bologna rientrò per gara 5 una disparità che mandò su tutte le furie la tifoseria pesarese già scottata due anni prima dall'infrazione di piede fischiata da Facchini ad Arenday nella finale scudetto contro la Benetton e sconfessata poi dalle telecamere quella contro la Bacler è stata l'ultima finale disputata dalla Scavolini con Bianchini di nuovo al comando e Myers sul parquet quella a cui forse si credeva di meno e che invece terminò solo la quinta partita in favore della Virtus di Sasha Danilovic qui vediamo McLeod dopo la rissa in gara 4 in un palasport indiavolato Danilovic si beccò pure la stoppata da urlo di Rossano Buonaventuri un gesto atletico straordinario compiuto da un ragazzino buttato in campo al posto di un americano che incendiò l'hangar l'abbiamo vista prima la stoppata adesso io Fernando voglio sapere da te siccome dicono che quella rissa non ebbe testimoni se non Binelli che ovviamente avendo un testimone da parte della Bacler cosa poteva succedere cioè tu che cosa hai visto se hai visto che cosa è successo veramente ci sono le immagini io purtroppo sono rientrato tra gli ultimi espogliatori che aiutai Ezio Giroli a raccogliere asciugamani sopramagli e quando sono arrivato in mezzo al corridoio c'erano oramai 200 persone che urlavano non si capiva il motivo si capiva il fatto che fosse successo qualcosa passando davanti le scalini dello spogliatoio di Bologna ho visto per terra col De Bella sveglio non come disse allora che si svegliò in ospedale e dopo siamo andati nello spogliatoio sentivo urla lì ho sentito come tutti di questo pugno che avrebbe dato lui io non l'ho visto assolutamente ma penso che l'abbia ve lo confessò o no a George si 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 può dire però non l'ho visto perché veramente sono entrato per ultimo negli espogliatoi purtroppo cosa gli disse Col De Bella lo hai mai saputo l'aveva provocato una frase raffista probabilmente si il problema è che quello che so io è che lì i testimoni erano solo bolognesi ovviamente avrebbero detto assolutamente io all'epoca forse Nando si ricorda salivo nello spogliatoio per le statistiche al pc e quindi nell'intervallo scendevo dalle tribune andavo lì dietro il tunnel e poi salivo nello spogliatoio per portare le statistiche per no perché c'era un per stamparle un terminale c'era un terminale direttamente nello spogliatoio dove era l'inizio dei computer ok dove l'allenatore mi diceva premi quel pulsante premi quel pulsante premi quel pulsante ok e non vidi che cosa Col De Bella non senti che cosa Col De Bella disse ma vidi il pugno allora ce l'abbiamo un testimone ma nessuno mi aveva mai chiesto niente cioè ma perché io meno male ancora di più negare dieci giornate perché era il periodo in cui insomma io andavo di sopra da giovane coach delle giovanili premevo il pulsante fammi vedere cioè veramente fammi vedere le statistiche nostre e pum fammi vedere le statistiche loro pum fine e e cade quella roba lì la cosa incredibile appunto è che il giudice Martone che poi per noi giornalisti io ero proprio agli inizi i primi anni che lavoravo fu scioccante perché il giornale doveva comunque uscire no e non si capiva se sta partita l'avevano vinta persa cosa succedeva cosa decideva cioè praticamente fu fatta una riunione con il giudice sportivo e gli arbitri all'interno del vecchio hangar quella notte che mi ricordo non so finì alle due di notte il tutto i giornali rimasero aperti o fecero una ribattuta che vuol dire che intanto la prima edizione l'hai mandata e poi magari correggi se c'è da correggere qualcosa ma è stata una notte di follia proprio dove alla fine insomma come sempre pesaro io dico non voglio fare la vittima però come sempre pesaro uscì bastonata perché è la monettina di Meneghin e con Meneghin che è mezzo morto nell'ambulanza ma poi in realtà il taglietto era no qui tu mi dici che col Debella era sveglio sì sì assolutamente lui è appoggiato neanche sdraiato seduto appoggiato al muro cosciente assolutamente e invece lui dichiarò che si era svegliato sentito tornare a botta e si svegliò all'ospedale va bene buonanotte va bene quindi insomma qualche scudetto in più lo potevamo avere perché pesaro ha disputato ce l'avremmo giocato con la squadra in completo fino alla fine quello sicuramente tu dici che con McLeod si poteva giocarla qui due americani soltanto c'erano allora uno 50% era un po' troppo e poi c'è uno o tre giornate l'altro due giornate tra l'altro quell'anno Bianchini aveva fatto questa scelta particolare affidando la regia a due ragazzi giovanissimi come te e Pierfilippo Rossi che è ancora più giovane di te molto più giovane e per quello che dico sembrava all'inizio una squadra così un po' debole invece in realtà poi ancora c'era Gracis Carlton Myers che era in esplosione totale Dean Garrett adesso averlo adesso Dean Garrett lo andiamo a prendere a piedi se ce lo ridanno invece era considerato un pivot non tra i migliori che abbiamo avuto quando invece tirava giù Catterve di Rimbalzi era un grande stoppatore insomma non era brutta come squadra no questa è stata un'annata bellissima anche perché se ti ricordi la semifinale è stata una semifinale più avvincenti che sono mai stata tre partite tre supplementari tutte e tre perdemmo la prima in casa con Trieste dopo un supplementare lì questa è un'aneddota che posso raccontare si era sparsa la voce che McClough e Garrett avessero già preparato le valigie avessero già preso i biglietti e noi cioè noi i più grandi Valter, Ario soprattutto fece una riunione come dire no qua non va via nessuno perché andiamo a Trieste a vincere e così andiamo a Trieste vinciamo dopo un supplementare in gara tre ancora a Pesaro dopo un supplementare con il canestro di carton in arresto di tiro da due punti che ci portò in finale e dopo la finale anche lì bellissima gara quattro senza McClough e senza Rossi pure già eravamo corti non mi ricordavo che si era fatto male a Caviglia in gara tre a Bologna e vincevamo a Pesaro anche se abbiamo perso gara cinque non abbiamo mai mollato fino all'ultimo se non ce l'aspettava di perdere la gara quattro ma io mi ricordo c'era un clima al palazzetto da paura cioè non poteva vincere nessuno no no quel giorno non ci batteva nessuno infatti per me è stato triste lo spostamento al palazzetto nuovo che te sei legato sì sì io al palazzetto nuovo ho giocato solo da ex diciamo la mia ultima stagione è stata l'ultima nel 95-96 l'ultima del palazzetto vecchio Giovanni se vuoi interromperci sì allora abbiamo due domande sicuramente rivedremo un nostro ex Charalampoplos domenica come lo vedete sicuramente come sarà secondo voi bel giocatore beh è un bel giocatore anche se insieme a Diop sono una squadra atletica però non sono una squadra che prende così tanti rimbalzi secondo i tiri di conseguenza è un giocatore è un giocatore che mi piace tantissimo perché capisce di pallacanestro e riesce a fare sempre la cosa utile al momento giusto però è un giocatore è un giocatore che i giocatori che abbiamo possiamo in quel ruolo lì possiamo giocarcela nel ruolo di 4 diciamo che la partita che andiamo a affrontare non è contro una squadra che può raccogliere 15 rimbalzi d'attacco di media partita quindi di conseguenza anche se con qualche centimetro con un lungo che ci viene a mancare probabilmente potremmo anche soffrire meno del previsto a ribalzo speriamo perché come si dice a volte c'è per una partita un limite intanto vediamo gli highlight della partita che il Banco di Sardegna ha vinto a Brindisi ecco diciamo che Mazzola in qualche modo è riuscito a Treviso anche se Policap è straordinariamente atletico però comunque abbiamo retto l'urto ce la siamo giocata però si riesce a nascondere un limite magari per una partita forse nella seconda può essere più difficile come vedi Valerio in posizione di 5 contro uno come Diop che salta come un matto più che altro perché non ha un cambio vero cioè abbiamo solo lui o meglio la VL perché non l'alleno io però possiamo parlare al plurale perché ci sta nel cuore però ecco il problema è quello il problema è che sicuramente verrà attaccato ma attaccato non intendo spalle canestro ma anche sui pick and roll per metterlo in difficoltà perché non essendoci un altro nel suo ruolo da poter schierare sarà in difficoltà ma sicuramente contro Treviso ha fatto un partitone è riuscito anche ad aprire molto l'area con costanza e con concretezza nel tiro da fuori quindi peccato che ci sia solo lui ci vorrebbero due mazzola il problema è quello che non ha un sostituto in questo momento si sa che ti prova con Ford a volte o Ford e McDuff insieme però ecco non ha alternativa secondo te diciamo come come se la può giocare Neo è una domanda che faccio a tutti e due cioè proprio da questo punto di vista non ha molto da inventarsi in realtà sicuramente adesso siamo ancora più corti oltre a un lungo ci viene a mancare una guardia probabilmente spero sia una cosa positiva nel senso che i giocatori sono quelli sanno che hanno più responsabilità avranno più da fare e come diceva lui Diop dentro l'area può essere un problema però con Mazzola come è successo attreviso può allargare in attacco può farlo uscire dall'area e lasciare più spazio anche per un forum che abbiamo bisogno che a proposito di forum che idea vi siete fatti dopo il debutto stellare con Brescia poi ha giocato comunque dai degli sprazzi diciamo interessanti però non più a quel livello anzi sembrando un po' anche involuto come può essere successo guarda il test fondamentale sarà quello contro Sassari perché perché dipenderà appunto dalla sua prestazione perché Banford è andato via non c'è c'è lui ok avrà sicuramente l'opportunità di sbagliare qualcosa in più e avrà la fiducia del coach è dovuta perché essendoci solo lui di conseguenza sia il risultato della partita ma in particolare che tipo di giocatore è lo vediamo lo vedremo appunto dalla partita di Sassari secondo me sarà fondamentale anche quello che riuscirà a dare Viscotti vedo una partita alla MEO in un campo che conosce benissimo quindi tanti possessi tanti contropiedi tanta possibilità di tirare anche da dietro l'arco nei primi dieci secondi dipenderà tutto da quella che sarà la percentuale al tiro da tre punti ormai la VL è condannata a questo cioè se il tiro da tre punti dice 40-42% nella partita la si può vincere se dice 35% con più difficoltà però a Treviso c'è stata questa percentuale eppure non l'abbiamo vinto lo stesso però c'è stata anche dalla parte di Treviso perché all'inizio dicevo ma qui qualcuno sbaglia perché in particolare il primo tempo non so con quanto hanno tirato le due squadre ma sicuramente col 50% o più Sassari invece non è una squadra che tira bene dall'arco è una squadra che tira meglio andando dentro tira meglio da due punti e di conseguenza dipenderà tutto dalla percentuale nel tiro da tre siamo è brutto dirlo certe volte non piace quel tipo di palacanestro ma è il tipo di palacanestro che in questo momento ci può dare qualche chance di poterla vincere e in questo ovviamente le guardie Visconti Foraman saranno determinati Giovanni scusa avevi un'altra domanda no volevo dire comunque Sassari da due c'ha un 55% e da tre c'ha un 32% quindi sicuramente le medie sono queste e ve leggevo in questo momento che comunque è uscito un articolo pochissimi minuti fa dall'Unione Sarda punto it che purtroppo ancora non si sa però potrebbe essere il ritorno contro Pesaro del nuovo capitano sicuramente al posto di Stefano Gentile Benzidius che potrebbe riprendere molto male dopo questo questa notizia Giovanni in finale puntata ci uccide dal 12 settembre comunque è fermo ricordiamo comunque è fermo da settembre magari non sarà super in forma non so forse vedremo se sarà lui o Dioppi il nuovo capitano comunque il gran giocatore Benzidius Sassari è stata anche sfortunata ha avuto un sacco di infortuni quest'anno Sardara ha detto infatti è stato un anno sorribilis però anche a causa di tanti infortuni che abbiamo avuto 4 quinti del quintetto erano rotti all'inizio insomma è stata un po' una stagione a rincorrere sicuramente per loro però questa perita è importante perché si gioca nel playoff sì ancora queste 5 partite hanno bisogno di un po' di continuità perché in quella zona sono tante squadre e dipenderà molto anche dal calendario anche se adesso come dicevamo prima credo poco al calendario visto le ultime 7-8 partite a Pesaro e si recupera un Benzius è una squadra importante prima quando chiedevi il greco il greco l'anno scorso da noi fece una grande stagione infatti mi ricordo che la società voleva rinnovare e lì era stato proposto mi sembra di aver capito un contratto fuori budget tra l'altro per farlo rimanere dopo Sassari ha offerto tanto di più c'è Coppa vuol dire per cui speriamo che Benzius se la prenda comoda e ritorni la prossima settimana con calma ci arriva un messaggio da un nostro telespettatore a proposito di Coldebella ricordo che non mi ricordo se in quella partita però colpì con un pugno Fernando Labella alle spalle dopo che gli aveva fregato la palla e si entrupolava a canestro senza alcuna adeguata in gara 1 è successo in gara 1 a Bologna su un loro contropiede io fermai lui con un fallo normalissimo davanti non ero davanti col corpo e lui mentre cadeva mi tirò un pugno qui leggero così e ovviamente ero il fratello piccolo dei vari magnifico Cozagrat arrivò Walter e andò addosso e lui si buttò per terra e Walter lo tirò su per la canottiera e lì è cominciato il parapiglia e gara 2 è successo McClough e dopo purtroppo è anche nato un brutto coro nei suoi confronti però era nato così sono state delle rivalità belle anche per voi penso c'era proprio la passione anche nei giocatori in gara 3 alcuni tifosi pesaresi erano arrabbiati con me perché lui è venuto a chiedermi scusa no scusa in gara 2 io non dovevo accettare su scusi ma ero in panchina lui si avvicina mi dà la mano non potevo fare altrimenti era stato un riflesso non mi aveva neanche fatto male niente assolutamente però vedi come si affondano anche le tradizioni cioè perché ancora adesso quando arriva la Virtus dei ragazzini che magari questa finale non l'hanno manco vista ne hanno sentito solo parlare però si tramandano queste storie questi aneddoti e quindi va avanti questa rivalità non voglio dire odio sportivo no è una rivalità pesante che comunque accende le partite anche per quello viene tanta gente no cioè quando arrivano queste partite qui le persone non se le vogliono perdere perché sanno che comunque si vivrà un'atmosfera particolare ecco quanto conta il pubblico in una in una partita Gigi ma l'ambiente la città il giorno prima contano tantissimo a me almeno viene in mente quello che vivevo le emozioni che vivevo in particolare ad Avellino il sabato quando per me era il giorno per andare al supermercato a fare la spesa dove tutti però ti fermavano e ti davano quella quel senso di appartenenza che poi dopo la domenica durante le partite lo vivevi lo respiravi lo era 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 vivo Pesaro questa cosa qua c'è durante tutto l'anno anche il 15 d'agosto a Bagnilallo quindi come dire è è tutto ti dà ti dà tanto e ci sono poche realtà in Italia che possono dare questa questa spinta emotiva così accesa come Pesaro ci sono realtà appunto come la stessa Bologna che non ho mai vissuto a Bologna ma immagino che così sia anche se divisa in due ma anche realtà come Caserta Livorno Livorno che in serie B vede un palazzetto con 8000 persone a vedere una partita ci sono certe realtà e Pesaro è forse la capitale fra queste realtà di provincia che ti danno una spinta in più e dove il pubblico dove il vivere il vedere è che la palacanestra è più importante del calcio e quindi ti fa vivere anche quell'importanza dell'appartenere alla squadra per cui giochi per cui alleni che diventa fondamentale poi nell'espressione della performance assolutamente anzi vi consiglio se avete 20 minuti di tempo da spendere andate sulla giornata tipo e guardatevi il video che è stato realizzato a Kaunas non sul trinchieri perché l'intervista è chiaramente a lui perché comunque è un allenatore italiano che sta facendo bene all'estero in Eurolega ma dove fa vedere la realtà della Lituania dove il basket è veramente una religione incredibile e onestamente io un po' ci ho rivisto una piccola Pesaro in questo filmato e ho pensato quanto potrebbe essere bello per noi avere quello che ha lo Zagiris cioè una casa come Casa VL che si sta cercando di costruire un museo dedicato alla VL che non c'è e secondo me questo è inconcepibile per la nostra città anzi voglio lanciare un appello facciamo un museo sulla VL non esiste non avere un posto dove si possano mettere tutti i nostri trofei cimeli ricordi sono sicura che tanti tifosi porterebbero le loro cose tanto tenerle dentro un cassetto non ha senso invece essere esposte sarebbe molto bello quindi lo dico anche all'amministrazione in un momento di Pesaro 20-24 capitale della cultura a Pesaro il basket è cultura no? o no? quindi andatevi a vedere questo filmato prendiamo ispirazione anche se dovessimo andare in A2 questa tradizione questa storia devono vivere penso che sia molto importante portare avanti in questo non so se avendo vissuto poi anche fuori sentivate questa differenza di Pesaro per la padacanestro rispetto ad altre realtà dove siete stati non so io ne ho vissute in realtà come lui ha nominato anche Caserta però Pesaro per tradizione per pubblico per tante cose che avete numerato da Eurolega non è da Serie A c'è assolutamente per quello per un mese ancora tutti quanti dobbiamo rimare dalla stessa parte per provare a riparare a grapparti questo sogno che è la 1 perché anche se ogni anno facciamo fatica baggio è ridotto la squadra non è quella che vorremmo tutti però fondamentalmente vogliamo la Serie A c'è assolutamente è così c'è la gente inutile che molti dicano è meglio se meglio se andiamo giù per poi per poi non lo so perché in A2 c'è Udine c'è Trieste c'è Verona c'è la Fortitudo infatti prima tu hai dei diceordini nuovi però in realtà ci sono tantissime realtà importanti sì 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 due di queste probabilmente verranno su non so Trapani Forlì poi c'è la Fortitudo però c'è io preferisco andando a giocare a Milano non a Rivini per dire eppure Gigio ultima sì l'ultima domanda su questa cosa poi dobbiamo anche chiudere abbiamo sforato parecchio volevo dirti questo campionato di A2 con due soli straniere e otto italiani che ci riporta agli anni 80 che tanto amavamo chiaramente il livello è più basso l'atletismo non è lo stesso così però non è divertente alla fine anche vedere una squadra di tutti italiani con questi due americani che per forza devono inserirsi e non come adesso che sono quasi gli italiani che si devono inserire nel gruppo degli stranieri allora è stato fatto secondo me in A2 da quando si è passati dalla Lega 2 alla A2 attuale un grosso errore quello di aumentare il numero delle squadre dividerle in due gironi e come dire diluire il talento degli italiani in più team in più squadre sono troppe erano troppe ma era evidente questo errore che ha portato ad un abbassamento del livello tecnico quindi a una proposta di spettacolo molto meno allettante quando c'era la Lega 2 in Lega 2 ricordiamoci che io quando avevi la fortuna di fare una finale e poi anche vincerla contro la Virtus Bologna lì c'era Charlie Smith c'era Branson c'era Podestà c'era Nicolai ma a Reggio Emilia c'era Mordente c'era Damiao che era ancora c'era Gigli che era giovane c'erano giocatori c'era Terrell McIntyre a Ferrara cioè era un campionato con 18 squadre mi sembra dove gli italiani erano sulla rampa di lancio oppure erano ancora come Nicolai giocatori buoni da Virtus Bologna ma non più da nazionale e stranieri Preston Schampert a Montecatini che venivano erano forti e che poi abbiamo visto in Eurolega in Serie A eccetera l'ampliamento del numero delle squadre ha portato a un avvilimento dell'interesse tecnico io spero con questa riduzione delle squadre 20 è il numero ideale quest'altro anno 20 squadre e non più due gironi un girone unico riportare il livello tecnico e quindi anche l'interesse e quindi lo spettacolo e quindi anche grandi centri anche se ce ne sono come diceva Nando Verona Udine eccetera a disputare un campionato interessante io a differenza di Nando anche se spero con tutto il cuore di rivedere anche perché adesso insomma vivrò sempre a Pesaro quindi voglio vedere la Serie A a Pesaro però per tante realtà vediamo le due Bologna vediamo Treviso essere scesi aver fatto un buon campionato essere ritornati su ha riportato anche un certo entusiasmo ricordiamoci che dopo Amodio l'entusiasmo era rinato era rinato ecco non è che uno si deve sempre fare male per poter ricrescere stare bene sarebbe più bello rimanere e disputare un campionato come è stato quello dello scorso anno però non viviamolo come un dramma se fosse ma speriamo che non sia benissimo allora ho una domanda e un commento iniziamo subito con la domanda Betta ci chiede questo nostro ascoltatore se sai chi sarà il nostro nuovo possiamo dire presidente della VL per il prossimo anno notizie no e non ancora ne parlavo proprio oggi con con Luciano Amadori che ho così incontrato e in effetti questo è un problema da risolvere sia che la VL sia in serie A sia che sia in serie 2 anche perché Ario ha annunciato le sue dimissioni ormai più di due mesi fa e ancora non non si è mosso molto la questione capisco che in questo momento sedere su quella poltrona non sia forse più un privilegio come era un tempo ma magari forse sia più un onere che un onore in un momento come questo però se Pesaro abbiamo detto prima che è una città che ha tradizione che ha storia che ha passione non può non esprimere un presidente cioè non è possibile che lo faccia Costa per tutta la vita come non era possibile che Scavolini dovesse sponsorizzare la VL per tutta la vita l'ha fatto per 38 anni non possiamo ancora criticarlo perché ha lasciato insomma ha dato quasi 40 anni della sua vita alla squadra di Palacanestro facendo anche tante altre cose belle per la città quindi a un certo punto i cicli finiscono bisogna trovare qualcuno che si prenda questa responsabilità probabilmente la società comunque cambierà anche in altre dinamiche come vi dicevamo già la scorsa volta cioè il consorzio cambierà lo statuto probabilmente agirà in modo differente vediamo potrebbero esserci delle novità ancora non se ne è parlato perlomeno all'esterno non sono filtrate troppe indiscrezioni ma magari chi sta lavorando dietro le quinte forse delle notizie ce le ha già giustamente in questo momento è meglio che la squadra stia però concentrata sul campo l'ultimo commento da parte di Lorenzo che salutiamo siamo una delle squadre più gloriose d'Italia assaporare una retrocessione sicuramente farà molto male abbiamo il pubblico più numeroso d'Italia siamo al terzo posto è comunque un palazzetto veramente tanto bello non meritiamo tutto questo un'unica nota positiva sono quindi i nostri tifosi che non hanno mai mollato e sicuramente non molleranno mai e sicuramente ringrazio e gli sono vicino perché comunque macino tantissimi chilometri e per tutta questa pura passione sicuramente un abbraccio alla squadra speriamo che vada bene e non ritorci bene allora noi veramente abbiamo spaziato su tutto io vi ringrazio tanto per essere stati nel nostro studio grazie a Gigio Gresta grazie a te bocca al lupo per il tuo nuovo lavoro e magari se arriva una chiamata in panchina non so se il comune la vince sulla panchina no guarda io sono veramente felice in più ho dei colleghi fantastici storia sono tifosi sì alcuni tifosi appassionati ha detto stasera ti guardiamo così mi salutiamo però sto vivendo un'esperienza nuova bellissima e sono contento di essere dove sono in questo momento e fino a quando non arriverà la pensione benissimo grazie a Nando Labella buon lavoro con i tuoi ragazzini grazie a te perché è tanto importante il lavoro che fai poi insomma avere come allenatore un ex giocatore di Serie A per loro sarà stimolante io penso che per me è un piacere ogni giorno come dicevo prima di iniziare a Gigio e andare in palestra mi piace molto e lo faccio con una voglia incredibile e cerco di in base alla mia esperienza il mio ruolo che ho fatto ho giocato per 33 anni dal minibasket fino ai 40 anni un po' di esperienza ce l'ho e cerco di trasmettere in quella fascia d'età che va dal minibasket ai 13 14 15 anni dove uno può apprendere tutto possibile cerco di lasciare agli altri gli allenatori che cominciano un pochino a gestire a lavorare anche sulla tattica su queste cose dei ragazzi che siamo preparati a questo soprattutto sui fondamentali sulle basi della palacanestro bene e Nando è uno dei tanti giocatori che dopo che ha vestito la maglia bianco-rossa ha deciso di rimanere a vivere a Pesano abbiamo una caterva quindi vuol dire che qua si sta bene e questo ci fa toccino assolutamente grazie ancora anche a Giovanni Zidda per i suoi interventi sul lato social e anche ad Andrea Sabatini in regia noi ci vediamo il giovedì prossimo buona serata e speriamo di raccontarvi cose belle hai visto quante novità al Conade di Montecchio ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto sì bellissimo ormai è il mio punto di riferimento trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti per non parlare della grande professionalità del personale e ti ricordo che al Conade di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto noi andiamo al Conade di Montecchio da più di un secolo sul territorio macchini ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili pavimenti rivestimenti parche ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza la nostra disponibilità competenza e servizio non hanno prezzo Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia macchini ceramiche sempre al vostro servizio oh I keep dancing with my a Rio Salso di Tavuglia